Un foglio su carta intestata della diocesi di Bafià con la scritta Sono in acqua, sotto la firma Monsignor Ballà. Le indagini sulla morte del vescovo di Bafià in Camerun erano partite proprio da quel foglio ed alcuni documenti personali lasciati sul sedile della sua vettura una Toyota Land 4x4 bianca ritrovata il 31 maggio scorso sopra un ponte del fiume Sanagà, a circa 80 chilometri dalla capitale Yaoundé. Tutte le circostanze facevano pensare che il vescovo 58enne si fosse suicidato ma quando il cadavere di Monsignor Jean-Marie Benoit Ballà qualche giorno dopo è stato tirato fuori dalle acque del fiume l'ipotesi del suicidio è vacillata. I medici che hanno eseguito l'autopsia hanno infatti riferito che sul corpo del vescovo erano presenti fratture ad un braccio e ad una gamba e la mutilazione degli organi genitali. Gli inquirenti adesso seguono quindi la pista dell'omicidio anche se per ora resta oscuro il movente del delitto. Secondo alcune indiscrezioni Monsignor Ballà contrastava fermamente un'organizzazione di pedofili e per questo era finito nel mirino della rete criminale pagando con la vita il suo dissenso. Altri commentatori invece fanno risalire l'omicidio al sistema di corruzione presente nel paese oppure ad un ambito più misterioso ed intricato che riconduce all'ostilità della massoneria nei confronti della chiesa cattolica camerunense. Si tratta di gruppi forti legati al potere o società segrete come l'ordine iniziatico della Rosa Croce ha spiegato padre Fernando Garcia, superiore provinciale dei missionari saveriani in Camerun. Nelle ultime tre settimane, oltre a Monsignor Ballà, sono stati trovati uccisi anche due sacerdoti. Grazie a tutti.